Cioè, aveva delle ansie, dovuto a questa pericolosità del volcato che dice, ma non può scompiare, può scompiare. Poi, vabbè, per fortuna attraverso internet, attraverso la TV, attraverso anche, è grazie ai professori che sono qui con noi, che ci spiegano un po' alla volta e ci spiegano a mano come vanno le determinate cose. Come hanno detto loro, purtroppo con la natura non si scherza, quindi siamo sempre a letto, ma almeno ci rassicurano un pochettino su vari eventi che possiamo rassicurare per i nostri giovani. Grazie. Grazie. Grazie, 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 grazie a tutti voi di dare un'opera delle vostre manifestazioni in Italia. Io mi sono preso conto che abbiamo un po' spalentato di questo, dopo questa storia, perché c'è un po' spalentato di questo, però c'è qualcosa di importante, la prima è che, come dicevo prima, da 3.000 anni circa, queste sono insomma le più amiche al mondo, c'era gente che qua ci vuole venire, non sarebbe un po' spalentato di questo, perché fortunatamente le infusioni veramente catastrofiche sono molto rare, allora nel tiraggio grossi benefici anche gli ambiti arrivano capito, comunque con dei passati, e perciò voi state qui, perché le, diciamo, le generazioni prima di novitro sanno che il Vesuvio, i canti, i crei, i vulcani, però hanno deciso che tutto sommato vale la pena con il Vesuvio. Questo per un fatto molto importante, perché quando si legge sui giornali, poi c'è sempre questi cosi spesso all'artistici, ah, il Vesuvio, i remonti, i cincini, i cincini, i cincini, in realtà si descrive sempre l'eduzione pliniana che è quella più forte che può avvenire, però in natura, e questa è la cosa fondamentale che è scritto, tutti questi fenomeni naturali catastrofici sono tali che i più piccoli sono molto più probati in realtà, quindi mentre tutti ci fanno sempre immaginare l'esecuzione del Vesuvio pliniana, in realtà la probabilità più alta, molto più grande, è che la prossima eruzione sia un'eruzione di un taglio a medio picco, non è detto che sia, anzi, è molto più improbabile che le eruzioni siano quelle pliniane che sono delle massime. Ovviamente il piano di emergenza è tarato su una subpliniana, perché cautelativamente bisogna tararsi sull'eruzione o massima, oppure sull'eruzione che è tra le più grandi, ma che abbia una probabilità non trascurabile di avvenire. E qui c'è tutta una polemica nella comunità scientifica, e qui sono alcuni colleghi che dicono, no, bisogna avere presente un'albeniana, no, l'albeniana è più improbabile, però, voglio dire, questi sono decolicismi, la verità che è importante e mi fa capire perché queste sono da sempre le zone più popolari al mondo, compreso oggi ma anche prima in proporzione, perché alla fine la maggior parte delle eruzioni non sono così catastrofiche, ma sono eruzioni di piccolo o mediatà, ovviamente le eruzioni molto grandi sono molto meno popolari, quindi questo è doveroso dirlo, no, questo è un po' di più. Allora, ma sono una roba, dottore Vecciani, Giovanni Vinciasi, grande conoscitore della storia dell'Oscendologia e dell'Oscendologia. a me piace tantissimo ascoltarlo, ma è vero, spesso i colleghi che non coperano le sue conferenze, anche se è il momento più coperto, tranquillo, eccetera, però è un grande, grande conoscente, ha fatto tutto, un grosso lavoro di ricerca, di test, di mani, di documenti di niente, e mi sta, mi sta passando all'istruzione, è una ricchezza enorme per tutti voi. Allora, passo la parola a tutti. Grazie. Grazie. Allora, innanzitutto, il tema che mi è stato applicato è quello di fare un po' la storia elettiva del mio studio e vedere Mettalli come ha studiato questo documento. Visto che Mettalli, appunto, in questo periodo, stiamo celebrando un centenario dalla sua ora. Come inizio, proprio per allacciare a quello che diceva, il mio progetto, vedremo in questo intervento come Mettalli si poneva di fronte al titolo di attività, come l'ha classificata e quali erano le sue opinioni. Una delle ultime opinioni espresse da Mettalli nel 1913 è che ipotizzava che la ripresa dell'attività del Vesuvio dopo l'azione del 1906 avrebbe nel tempo portato il Vesuvio a ricondiugersi al sonno perché l'energia di Mettalli e come è successo in passato sarebbero stati da da portare una fusione di un unico cadere che c'era un'attività tra il Vesuvio e il Vesuvio che cresceva nel tempo. Noi abbiamo visto che questo non si è verificato perlomeno dall'ultimo apriano del 79 perché le energie energetive vanno diminuendo nel tempo per cui non l'abbiamo visto né con le eruzioni medioimali né con le eruzioni del Cianco in campo di congiungersi con energie confondabili a quello del Vesuvio Mettalli questo è un suo testo classifica il tipo di eruzioni e schematizza parlando di eruzioni lineate stromboliate e fusive un po' quello che è la classificazione moderna del tipo di attività allora diamo un piccolo cielo biografico di Mettalli proprio come il quadrato questo questo nasce in un mese nasce andato nel 1850 e di famiglia molto religiosa studia in zen ed è talmente brillante come allievo che addirittura diceva il rogine e il soggetto tale anche con l'antici Già si vede e i suoi professori notano la la presenza di spirito e il grande intervento di questo del giovane Giuseppe Mercato tra i suoi professori che meglio lo valorizzò fu il grande geologo Abade Storvani colui che scrisse il libro il più grande geologo che è per l'Italia del 19 e scomparli capì il genio di Mercato come classificatore cioè Mercato è un attualista è una forma totale totale che gli eventi tende a classificare osservatore e classificare quello che la sua mens naturalist radiazionisce un po' a tutto quello che farà in sé sia come un canologo sia come si vuole nel 1878 c'è una grande svolta in quella che la cultura di divina affidata dal suo maestro di compilare il terzo volume della geologia di Italia di Storvani in cui avrete dovuto trattare in questo terzo volume i fenomeni vulcanici quindi mettiamo facendosi dare un costito anticipo dall'editore dall'anti cominciò a girare per l'Italia tutti i vulcani attivi e non attivi un po' come collocandosi in la scia del villantur del settecentesco e ottocentesco e quindi arrivò nel settantotto anche a Napoli dove osservò l'attività del besovi come dicevo mercato in classifica in elezione primiana stromboliana oggi chiamata ultra stromboliana ed inutile per i suoi l'elezione primiana per i mercati è quella del settantanove dopo cristo anche se e oggi è a quanto accettato con l'inizio dell'elezione in novembre e non in agosto e oggi ci sono molte compere tipo archeologico ma anche filologico perché ci sono altre croniche come quella di Cassio di Oro o quella di Pininio che che riceve le lezioni a ben in aumento i ritori archeologici di prodotti essenzialmente autonati tipo melagrane tipo lonti vanno così come una movita databile intorno a ottobre del settantanove sottoditto l'imperatore ci può traspostare queste visioni in novembre così come aveva intuito anche l'imperatore l'imperatore quindi passando alla storia continua dell'esubrio è quella del settantanove d'ucristo ben descritta da Pininio di Giove sotto invito della storiologica imperiale Dacia con questa edizione l'esubrio entra nella storia si conosce questa attività di questo mucano che da volete o da in poi a tutta una serie di eruzioni prima esplosive quella del 1902 quella del 472 che noi passiamo con uno spettro energetico inferiore a questo diciamo sub l'esubrio fino all' l'episore finito il ciclo medievale intorno al XII secolo all'edizione del 1630 come vedete da queste immagini di poco precedente dell'edizione del 1631 si osserva l'interno della città del somma che precedentemente non esisteva diciamo un apparato tant'è vero che sempre Cassio Dione nel quarto secolo dice una frase molto emblemata se se i grandi possono confrontarsi con quelle piccole il vestibio appare come un anfiteatro cavolo al centro stiamo parlando del quarto secolo nel senso di l'edizione primiare che si generò all'interno del somma del vesuvio dei romani creò questo anfiteatro cavolo centro e l'attività è successiva inizialmente di iniepimento della cantega del somma e poi con l'annommazione di un apparato che a fine ciclo quindi finito il ciclo medievale nel 1630 è più alto del somma di circa 60 anni quello che succede il 16 dicembre 1 631 fa entrare nella cultura e nell'immaginario qualità dell'attività bestiale circa 200 prove ci sono arrivate di queste visioni descritta benissimo da tutti questi inallatori e ricercatori vulcanologi tra virgolette dell'esoca che utilizzavano varie teorie per spiegare questo tipo di emissione inizialmente utilizzando teorie a carica classica dico quelle aristoteliche che dicevano che un'emissione si generava per eventi sotterranei che improvvisamente diciamo uscirono ma poi utilizzando le nuove tecnologie e tecniche diciamo soprattutto quelle delle pornaci antieniche avremo una descrizione che ho di questa edizione che ben riconosciamo in quello che è l'alare che si trova a Pottici al grandello vicino a Pottici conosce che fece apporre il Cere nel 1632 e che ne ha dato appunto 16 dicembre 1630 questa lapide è molto emblemata addirittura è una delle volte se non unica rivolta ai posti e dice poste le poste di voi si gravi un giorno e due all'altro il di precedente è esperienza per il di che si cioè ogni cosa va letta considerando che la storia va considerata perché quello che successe in passato potrebbe succedere a allora in cassetto voi vedete ci sono delle notazioni che io ho messo per farvi capire quanto è attuale questa epitura nel capire la storia emotiva di questo unicato e come bisogna agire in conseguenza del tipo di amico innanzitutto bisogna conoscere la storia emotiva venuta e l'anno di antecita 20 uomo da che sprede il sole se non sbaglia la storia alza il vestito quindi è innanzitutto importante conoscere la storia del pubblicato occorre conoscere il tipo di magno che hai nel campo all'interno del pubblicato perché sappiamo bene che il contenuto matematico vuoi il silice vuoi il magnesio l'allume vuoi il potassio e altri tipi di composizioni che caratterizzano i vari magni sono l'indice di esclusività noi sappiamo che di magna più edifico di silice più esclusivo più edifico in materiale tipo potassio magnezo più e flui quindi già conosce quello che noi chiamiamo disonazione matematica il tipo di contenuto matematico da quello che ha evolutato diciamo il vulcano che possiamo caratterizzare anche il tipo di attività futura che potrebbe avere il luogo la cosa interessante è che quello che scrivono in queste epigrate è un concetto di isolazione magna di poltenio nel senso che dice questo morte a pieno sedere di lunghe a lunghe e solo oro e argento l'oro ed argento che gli avvisi è il modo per ottenere l'interazione di oro argentino maschio femmina indiani avrebbero detti i cauristi del sesto secolo avanti cristo era quella che avrebbe creato l'interazione quindi l'espulso secondo questo schema che ho l'avevo osservato prima dell'elezione un ritiro del male e poi subito dopo l'inizio dell'attività di flussi piroclassici fece invocare il fatto che l'acqua che non vedevano non attribuendola alle deformazioni del suono ma l'acqua che si infilava all'interno del lucano che avrebbe creato l'esposilità per cui l'interazione acqua marma avrebbe creato la creata matematica di cui abbiamo visto come prodotti diciamo più catastrofici l'amor russi classici eccetera all'appunto che tutta l'attività successiva del desunio si monitorava mettendo soprattutto nella città di Torre del Vento nelle città desuniane postiere delle persone sui campanili che appena avrebbero osservati i piccoli del mare rintoccavano le campane per far andare via l'autorazione perché quello sarebbe stato un indice che subito dopo sarebbero arrivati i flussi filocastici questo lo leggero fino nel 1961 quando Malmieri con un'emozione manderà del Gesù capì che erano depopazione e non mi messo di acomo in la vita del l'unico sembra l'abile dicendo comunque se ti accada la vita fuggi perché l'unico modo per sopravvi dimenticare di l'anico e se hai una ridenza questo da molti definito il primo protocollo di protezione meccani capisce dall'attività successiva a più del 630 che ci sono degli schemi nell'attività visumana attività parossistica inclusiva meglio di riposo e successiva riprese nell'attività quindi con base sulle fatale e la cosa interessante che nella breve vita dei americani sia negli ultimi tre anni di vita all'osservatorio esuliano sia da 1878 lui capisce e vive l'attività visumana tutti i cibi che aveva presentato vede l'attività del 1906 che è un ultra strombo e che lui addirittura chiama fogniata vede l'attività a condotto chiuso e poi la ripresa dell'attività nel 1913 e che dice attività prossima la creazione di pupole lamide come quella di Corumet e quindi nella soffrede storia però capisce tutto quello che poi sarà lo specchio e l'ultimo dell'attività molti studiano l'attività del vesuvio e la cosa interessante quella che vedete sulla destra sono i cronostatici dell'attività vesuviana somma del somma del vesuvio e se andate a contare non è sbagliata la lamide che dice ben ricordo da che la storia avvicinata ha il vesuvio molti hanno descritto la storia del vesuvio addirittura l'ignanzo sovrentino dice che in una sua cavera in una sua grotta dove il tenevavino aveva individuato varie emisioni quindi l'origine della statifatia non è solo storia da fonti storiche ma già nel diciassettesimo diciattesimo secolo cominciano a studiare statisticamente le episi questo è il vesuvio dopo l'elezione del 1631 perde circa 400 metri del vecchio apparato e nel tempo l'abbalato con luce questa è un'altra emisione ultra violente nel 1660 che demorizzò fortemente la grotta perché il vulcano spalò fuori tra gli stavili augite germinate a forma di croce tra le varie forme che arrivando a grande marzo posandosi sui distrutti faceva credere che era arrivato l'ultimo giorno della terra la essenza che si avvicinava a inizio e quello è un esempio di queste croce che arrivavano da questo questa è la prima emisione che trabocca dalla cartella del 1631 ed è la emisione del 1694 un'emisione che chiamano molti napoletani ad andare a vedere questa strada colata che loro chiamavano di pitume invocato di materiale incantescente e si mettevano ai lati di questa colata addirittura con qualcosa di classico napoletano in cui i commercianti vendevano solo vecchi e addirittura il cardinale impegì che le prostitute si mettessero sul presidio perché attiravano queste persone che ad al bevevo questa che è un'emozione laterale del 1760 per far ridare il fondo l'attività è molto tranquilla e attira da tutta Europa avvedere questo l'attività vesuviana non solo gli scavi di percolare e di pompeio e delle serateo di consul attivano un gran tour di viaggiatori e ricercatori che studiano e ipotizzano non c'è anche oggi questa è una delle grandi visioni del XVIII secolo 1767 descritta pittoricamente da tanti artisti questo è poverso e voi troverete di molti pittori evoca molti guardano una stessa edizione perché c'è un proletto con medici e di emissioni molto richieste in quasi un tre corti europei questo è l'unica scomboleare del 1773 e questa è l'attività di corso successiva a quel tipo di elizio vedete 1773 molto tranquilla come attività che il mercato che avviste avviste soffra l'attività questa è un'altra emizione più edita la più edita ed è quella che rispose settore del greco del 1794 inevitabilmente a occhi edizione più esplosiva o che sollecitare l'immaginato collettivo di sassi con quelli di compiei elettorale era accompagnato da una ritualità soprattutto religiosa con l'invocata patrocina vuoi di sangellare al vesuvio vuoi di saltare la terra e di altri sangri per sconciurare questo tipo di attività questa è la prima del XIX secolo del 1829 e questa è la calma che conserverà fino al 1771 è il primo piano per vedere lo setorio che studiato che come vi ha descritto qui il direttore nasce per studiare l'attività del vesuvio come vi dicevo l'attività è da qui in quel periodo tanto da sollecitare la scalata all'uncato che è meta di turisti che prima che nascesse la seggio via arrivava su questo che sono mezzi portati dalle quitte questa nel 1880 la prima fenomenia che va sul vesuvio dei fratelli dei book che costruirono la prima funicolare del mondo sul vulcano attivo e per pubblicizzare questa funicolare un fatto quella canzone che veniva cantata da il laboratorio per questa ricordazione questa è un po' in simpese quello che è successo a frapparato Sommo di direi che queste tutte le visioni che mi hanno e poi l'attività dal 1631 è di a ogni elezione c'è una modifica dell'apparato quindi non dovete pensare a un edificio che è luta e restabile ma ogni volta vedete qua è la pinta in terra del cometo è fino a 1944 che è l'ultima quindi dovete pensare a una vita in questo lucano cioè che si trasforma si muove è unita si riposa e è lì e queste sono finte regolate che ha fatto il messaggio da 1623 nel periodo di 1625 1694 fino a 1944 vedete alla fine sono poche le elezioni che arrivano nella zona mentionale fino a mario la parte settentrionale c'è la barriera del somma che fa arrivare questo tipo di prodotto mentre le attività che colpiscono le città desuliane della costiera sono essenzialmente colate laterali tipo come vi ho fatto nel 1761 1861 1794 che rispusse per il tempo la creatività e i fuochi sono all'interno della si è portato successivamente vi faccio vedere che già da due anni dopo che di l'unie inventano il cinematografo si vede per la prima volta il vulcane multivesune e quindi il primo vulcane da mondo in eruzione in questo periodo che americani si trovava a Nantoli e che studiava questo tipo di artigità eb origine era già da due anni no da 4 anni che è annunciata l'emissione di origine poi al Corri del Verge qui i fratelli di mie sono alla marita e vedete che ho un cento punto si lega anche del tipo che va a un numero di questi l'ate che porteranno poi i corri dei mentre vedete l'appoglio del tesuglio è completamente diversa prima di questa attività successiva arrivata al 1906 il vesco era alto 1350 metri cioè quasi 200 metri oltre quella zona uno dei livelli più alti mai la gente della lusana e su questo città una grossa di arriva tra due di dove ero se vadone quello dell'epoca marteducci è successivo mercato il primo pensava a un accumulo per sollevamento in base alla teoria dei catetici sollevamento vedete e invece mercato questo è l'idea di mercato è questa idea di marteducci sulla sinistra e in realtà è una cupola di accumulo e non di sole questa è l'emissione del 1972 questa è l'emissione del 1906 la più distrutta viva e più evangentica del ventesimo più forte di quella del 44 e questo è il filmato di questa visione unico al mondo questo filmato che si ripreva perso è che invece noi abbiamo un museo dell'osservatorio ritrovato su un metodo comunitare a l'emissione questo fuggitato dai fratelli troncose di Napoli che per l'occasione fondavano la cassa cinematografica partendo e armati in cinepresa piccola tant'è che i filmati dell'epoca durano sei minuti al massimo perché la capacità della propria era quella vanno prendono la visurata e vanno incontro all'emissione e diciamo tenete conto che diciamo le scene prese non fisse e quindi vedrete delle scene fisse in quella dell'emissione non c'era per nulla questo frutto che vi dicevo è stato trovato nella comunità degli ambienti e addirittura queste scene alcune di queste scene furono utilizzate nel 1913 per fare in film gli ultimi giorni in moglie la prima produzione per il giudice questa è la traduzione del posto delle case perché eruzione intima presse soprattutto il posto delle case che la sono messe in una punizione con il lato di lato fu completamente diversa vedete qualche scene e per l'occasione non per la volata l'Africa ma per l'accumulo di scene soprattutto a san giuseppe vesidiano quando il prete richiamò con le campane i fedeli all'andare a pregare 80 persone si trovavano i chiesi durante il pregare il pregare su questo tutta la comunità scientifica vedete i gruppi massoni attaccare un po' rispondi a livello di clericalismo e clericale voi siete scelte voi mi permettete nell'altra situazione ad accentuare le persone prima dello stesso po' consigli molto attuali rispetto a un tipo di attività tant'è vero che nei piani di emergenza c'è come scritto che appunti mezzo metro vicemi sui tempi rendono instanti verticalmente quelli che diciamo consigliano di spalare dove è possibile o comunque di abbandonare gli edifici se diciamo prosegue l'attività di missione di città tant'è vero che nel piano di emergenza oltre alla zona rossa c'è una zona di lì cosiddetta zona gialla in cui anche quelle che sta evacuate nel caso vengono superate le solde di affumuro vicene su quindi non è che non la storia del vulcano più di alla sempre quindi a gentil come dice forse comunque dopo il 1906 si crea un tappo all'interno del vulcano e solo nel 1913 riprende all'attività del vulcano e ricomincia un nuovo ciclo reclusivo così come il metallo classico dal 1620 questo è una delle ultime foto degli metalli sulla tendenza dello senatorio nel 1914 insieme a quello che sarà il suo successore Alessandro Marlano questa è l'attività vi faccio vedere questo filmato del desubio ai tempi di malata c'è qua il problema però c'è la scelta va bene allora questa è l'attività del numero 1913 che si riapre il fondo e ricomincia l'attività e nel tempo si porta un connetto all'interno del desubio che cresce e unita e leva il plato di l'attività e nel 1938 nel connetto lo scopre le detenze questa è l'ultima emizione del desubio ed è l'emizione del 1944 registrata dagli amministrati che in quel periodo erano annabili e avevano occupato lo settembre di sì l'osservatorio desubiato per fare una postazione meteorologica vedete il connetto lo si può vedere qui è chi lo vedete il greco con un caramato il primo piano il connetto che è unita ed è talmente pieno il tratere del desubio che bastava buonissimo perché si verificasse l'esercizio tant'è vero che i giornali del peggio e soprattutto il maglino accusò gli alleati insomma tutto l'ala inglese che ne ritorgono al bombardamento di Cassini insieme agli americani scaricavano le bombe non cittarie parte di mare e parte le trattive del desubio anche vero che invoce il direttore dell'esercizio chiese di sapere gli orari perché non avessero utilizzato per quello che noi diciamo la verità per capire la propagazione delle loro dissi e quindi studiare l'interno questo è l'attività del 18 marzo 1944 una lava molto fluida su alzernadere con l'attività stroforiana inizialmente del corretto che poi crona completamente e poi la lava che scelta alla valle di Puglietro è il posto dell'altra simpita verso i paesi di San Sebastiano e numero 270 e queste che mi stanno giocati gli altri che fanno le processioni dalla prima malattia no, no questi sono persone di assaggiare su questo questo è un po' e l'altro molti curiosi non immaginano l'emissione però già intorno a 20 infanzo e poi il ventuno comincia ad entrare a San Sebastiano al vestito queste sono le parti più befele della cittadina vedete e la pressione della lava è tale che fa trollare questo non è la tentazione che fa trollare le case ma è la pressione del fronte lato che distrugge completamente tant'è che se qualcuno è stata a San Sebastiano nelle tutte le case che le di oggi e che poi hanno scritto il ventuno di San Sebastiano sono di sopra della colonna del quattro lato questi molti soprattutto per aver avuto un sindaco illuminato in basso in quella cittadina rinunare sempre subito perché forse l'unica cittadina resuliana a misura d'uomo e un balisticamente all'alto quindi in questo non ce lo chiamo non ce lo chiamo non ce lo chiamo non ce lo chiamo che dicevo solo per carizze di cittadina o per per qualcuno che per lo spazio c'è rimasto perché voleva rinunere in caso di questa edizione pallano le droni che sono luoghi solo di ventina di persone ma perché fatti il test che si dicevano e via gli scopri e giurciano vabbè spiegando il giurciano vabbè c'è il giusto di santo allora questa è l'ultima come dice l'ultima inizione del test questa è una polata io parlo di come la polata e subito dopo il giorno 21 come accade quasi tutte le inizioni del studiato si temano l'attività eclusiva e comincia un'attività parossa è l'attività parossistica queste sono colonie di 8 6 7 chilometri in altezza ma per l'elezione 1631 arriviamo a 8 15 chilometri in altezza e per l'elezione femeniana tipo 79 è stata calcolata un'altezza tipo 30 chilometri di blu e vedete qui la gente si attrezza per togliere decenni in correzione alle spalle decenni in l'elezione si riprende la viabilità qui sono in Italia perché ripeto proprio a terzino c'è un aeroporto che su cui 80 aeri in Italia furono distrutti a causa dei centri che accendono i motori la prassità del centro 80 aeri compadenti non completaremo la più tale e praticamente questo è uno degli aeri una volta scombrato che ritornano da Cassino sono i famosi bombardieri più bello che diciamo discusse come sapete questa è un'altra storia la pazia dove si è riducciati i tedeschi in quel che vedete il somma a marzo con l'alien e questo è lo che diciamo sarà l'alien bene sanno sanno l'alien è vai con che bu ha l'alien con si as l'alien Grazie.